Ancora bambini sottratti ingiustamente, ancora genitori che soffrono. Scenario milanese, grande ospedale, reparto psichiatrico, una donna catatonica è lì da diversi giorni, imbottita di psicofarmaci, a seguito di un TSO richiesto non si sa bene perché e da chi. Marito disperato che chiede spiegazioni alla struttura sanitaria e di tutta la risposta viene minacciato sostanzialmente occhio che facciamo il TSO anche a te, sbeffeggiato, insultato e maltrattato da dirigenti di questa grande struttura sanitaria e dal personale di questo ospedale. Vogliono portar via il loro bambino, questa è la sostanza sulla base delle solite farlocche, mendaci, relazioni e CTU. È tutto registrato, è tutto registrato, andremo avanti con questa storia perché è allucinante, ci chiediamo ma dove è finito il genere umano? Dove sta finendo? Esiste ancora o siamo stati invasi da personaggi misteriosi provenienti da chissà quale galassia? Poveri bambini, poveri genitori.